Ben trovati amici del DOT e di Pianeta Cosenza. Quest'oggi la nostra redazione sportiva ha deciso di affrontare un tema delicato che sta a cuore non solo ai tifosi del Cosenza ma a tutti gli sportivi. La morte di Denis Bergamini che è avvenuta circa 32 anni fa per l'esattezza il 18 novembre del 1989 lungo la Statale Ionica all'altezza di Roseto Capospulico. È un tema delicato perché appunto dopo 32 anni di mistero, depistaggi e situazioni poco chiare c'è stata finalmente la svolta. Quindi il gruppo di Castrovillari, Fabio Lelo Festa, quindi accogliendo la richiesta del PM Luca Primicerio, ha rinviato a giudizio Isabella Internò. Isabella Internò che come sappiamo tutti era l'ex fidanzata di Donato Bergamini e le accuse sono abbastanza grave perché qui nel processo che è stato fissato per il 25 ottobre si parla di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e da futili motivi. Quindi ne parliamo questa sera, abbiamo l'onore di avere in studio l'Avvocato Cassano che sicuramente gli amici del DOT di Pianeta Cosenza conosceranno come volto di quest'estate quando si parlava della riemissione del Cosenza in Serie B o no, con delle trasmissioni molto seguite e dobbiamo dare atto che l'Avvocato Cassano ci ha preso in pieno. Cioè la sua teoria, quella che ci ha detto dal primo giorno poi, si è verificata e il Cosenza i primi di agosto si è ritrovato in Serie B. Quindi è con noi l'Avvocato Nicola Cassano. Un saluto a tutti, sì, non ci vedevamo da quest'estate. Sono contento che chi ci ha seguito in quei giorni magari è stato durante le vicende estive un po' più tranquillo visto che poi tutto quello che ci siamo detti ha trovato conferma nelle sentenze e quindi bene così siamo in Serie B e tutto si è risolto come si doveva risolvere. Sì, sì, io ne devo dare atto appunto all'Avvocato Cassano che è stato uno dei primi a esporsi, a prendersi delle responsabilità e ci ha visto giusto. Quindi ma torniamo a noi appunto a questo caso della morte di Bergamini che finalmente dopo 32 anni pare essere arrivata la svolta tanto attesa. Io la prima domanda che volevo fare all'Avvocato è in tutta sincerità, cioè in quanti casi giudiziari sono stati riaperti dopo più di 30 anni? Guarda, è un caso, quello di Bergamini è un caso più unico che raro. Io per restare in ambito sportivo, per restare in un ambito nel quale lo sport e la giustizia sono intrecciati, mi viene in mente, non so se te lo ricordi, Roberto Klinger che era il medico sociale dell'Inter, della grande Inter, quella di Klisman, Nicola Berti, che fu ucciso con tre colpi di pistola. Dopo due anni di indagine ci fu un processo che arrivò in Cassazione, furono tutti assolti e ancora oggi, dopo 30 anni, non sappiamo da quale mano siano partiti i tre colpi. Però in quel caso un processo si è celebrato, in quel caso nelle aule di giustizia si è andati. Nel caso di Bergamini si è andati nelle aule di giustizia una sola volta, sostanzialmente quando fu mandato a processo dalla pretura di Castrovillari, l'autista del camion per omicidio colposo e dopo 30 anni non si è ancora celebrato il processo, fino all'altro giorno si era ancora nella fase delle indagini. Quindi il caso di Bergamini è veramente più unico che raro. Ci sono tanti casi irrisolti, ma la stragrande maggioranza dei casi irrisolti ha visto comunque quantomeno la celebrazione di un processo che nel caso di Bergamini inizierà ora a distanza di più di 30 anni. Nonostante il numero di persone coinvolte, il caso Bergamini è avvolto da questo alone di mistero, nonostante nel corso degli anni siano fatte tesi, sottotesi, controtesi, è soltanto recentemente è arrivata la svolta nelle indagini. Perché lo ricordiamo, fino ad agosto 2021, mentre noi parlavamo del Cosenza in Serie B, il caso Bergamini era ancora sotto indagini. Ora si è passati alla fase del processo del rinvio a giudizio. Di recente il nipote di Bergamini, Denis Dellevacche, che è il figlio di Donata, che ha voluto chiamare proprio Denis come il fratello, ha dichiarato per mezzo stampa che alcuni compagni di squadra sanno certamente di più di quando hanno detto ai giudici in questi anni. È un'affermazione forte e decisa. Cosa ne pensi tu di queste esternazioni? Guarda, sono affermazioni forti, come hai detto tu, che come tali vanno rispettate perché provengono non solo dal nipote di Denis Bergamini, ma provengono anche dal figlio di Donata Bergamini, che ha visto la mamma dedicare tutta la sua vita a questa vicenda. Quindi le sue affermazioni vanno comunque rispettate. Si parlava, c'era stata la vicenda tra Padovano e Peserini su un presunta clima di festa dopo i funerali di Bergamini a casa della fidanzata di allora a Rende. Circostanza questa che anche è stata smentita più e più volte tra i due. Non corre più buon sangue a causa di questa storia. Quello che conta è al di là di chi sappia e di chi non sappia, quello che conta ora a distanza di dopo 32 anni. E in questo dobbiamo assolutamente associarci all'appello alle frasi del nipote di Bergamini, del figlio di Donata. Chiunque sappia qualcosa di utile a ricostruire la verità dopo 32 anni ha il dovere morale e civile di parlare. Perché dopo 32 anni di indagine, se davvero, come sostiene il nipote di Denis, qualcuno sa e non ha parlato, è il momento giusto di farlo. Su questo ci dobbiamo associare. Quanto al resto, lo ripeto, non siamo nelle possibilità di commentare e di fare altre ipotesi noi rispetto alle miriade di ipotesi che sono state fatte, ma con sincero rispetto dobbiamo leggere le frasi del nipote di Bergamini e dobbiamo insistere con lui affinché chiunque sappia, come detto, finalmente parli. Io sono sostanzialmente d'accordo con le parole che ha detto l'avvocato. Ti volevo rivolgere un'altra domanda. È possibile che Denis all'epoca era nel pieno delle sue forze e della sua carriera? Aveva 27 anni. Cioè è possibile che una ragazzina esile di 19 anni abbia comunque potuto commettere tutto quello che si sospetta da sola? Guarda, l'hai letto tu prima, sostanzialmente l'hai letto prima il capo di imputazione, cioè quello per il quale l'interno entra a processo. E come prima parolina nel capo di imputazione hai letto la parolina concorso, concorso di persone, cioè la procura, gli organi inquirenti sostengono che l'interno abbia agito in concorso, cioè assieme ad altre persone che però sono rimaste ignote. Questa è la tesi alla quale è giunta la procura di Castrovillari all'esito delle indagini, durate ripeto 32 anni, con numerosi colpi di scena. Noi nel nostro ordinamento, e questo lo diciamo, lo dichiariamo alla dogana, abbiamo un principio sacro che deve essere rispettato e deve valere per chiunque, che è la presunzione di innocenza. Però dietro la presunzione di innocenza non deve nemmeno nascondersi quello che io definisco l'innocentismo, cioè negare qualsiasi ipotesi a prescindere. Io sostanzialmente, non essendo innocentista, ma rispettando il principio della presunzione di innocenza, mi sento di concordare con quanto sostiene la procura, cioè che ci siano altre figure che fino ad ora siano rimaste siano rimaste ignote e che quel concorso con persone ignote, solo nel processo, si sarebbe dovuto già celebrare anni fa, ma solo nel processo potrà essere svelato. Quindi, rispettando tutte le garanzie costituzionali del nostro ordinamento, è chiaro che si parla, come hai detto tu, di concorso con persone ignote, quindi sostanzialmente è un dato di fatto, possiamo tranquillamente dirlo, gli organi inquirenti sostengono che la Interno abbia agito in concorso con altre persone. Da quello che sostengono gli organi inquirenti a una sentenza di condanna definitiva passa un mondo, però è quel mondo che passa, che si chiama processo, che lo ripeto, anche a garanzia di Donatella della Interno si sarebbe dovuto celebrare molti anni prima, perché anche una persona che si professa innocente ha diritto che la sua innocenza venga confermata in un processo e non in una miriade di tesi e sottoboschi, che attorno alla figura di Bergamini si è purtroppo creata in questi trent'anni. Credo che le parole dell'avvocato non facciano una piega. Io ricordo che all'epoca il primo a parlare di omicidio e non di suicidio fu proprio il compianto padre di Denis Domizio, che adesso purtroppo non c'è più. Anche lui ha passato in pratica una vita a far cercare di riaprire questo processo. Anzi, io ho letto anche degli atti, non so se poi sono stati smentiti o no, dove Domizio avrebbe dichiarato agli inquirenti di aver ricevuto delle chiamate dove gli offrivano ingenti somme di denaro per insabbiare il tutto. Quindi ora Domizio non c'è più, non può più testimoniare, non può più parlare, però il primo pensiero va sicuramente al papà di Denis, che non ha avuto prima di morire la soddisfazione magari di una sentenza. Guarda, io come per il figlio di Donata, io penso che alla famiglia di Denis Bergamini nel complesso dobbiamo il merito e il fatto che siamo ancora qui oggi a parlare di Denis Bergamini. Perché, anzi a maggior ragione, con le parole del padre che non c'è più, dobbiamo portare anche in questo caso il massimo rispetto per le dichiarazioni che ha fatto, perché non è facile per un padre parlare di omicidio del figlio. E penso che nemmeno il padre avesse tutta questa voglia di dire un qualcosa di non vero, di aggiungersi anche lui al sottobosco delle teorie sulla morte del figlio. Anche questo l'unico luogo nel quale può essere valutato è il processo, anche questo è un qualcosa che è stato attenzionato dagli inquirenti per troppo tempo e quindi io penso che solo nel processo, solo durante il processo che finalmente inizierà anche le frasi del padre di Denis potranno o meno trovare riscontro, però ancora di più rispetto al nipote che è ancora in vita, le parole e i gesti in vita di un padre che ha perso il figlio in queste circostanze meritano da parte nostra silenzio e rispetto con la fiducia giusta nella giustizia che magari anche queste frasi possano o meno trovare riscontro nella fase processuale. Sì, non so se l'avvocato Cassano è d'accordo con me, ma a mio avviso la svolta reale proprio del caso della morte di Bergamini, secondo me si deve all'avvocato Fabio Anselmo, che ha insistito tanto ottenendo la riassumazione della Salma nel 2017. Bene, è stato sempre detto che quello di Denis a distanza di anni era un corpo che parlava, perché si è sempre scritto negli atti processuali di un tir che lo avrebbe investito, trascinato per oltre 30 metri con un corpo straziato, invece poi la Salma ha detto tutt'altro. Guarda, non so se tu hai, da giornalista sportivo, tu abbia o meno degli idoli, cioè vi parlo di Gianni Brera, penso che per te Gianni Brera sia una figura da eseguire. Ecco, per me io penso dell'avvocato Fabio Anselmo quello che tu potresti pensare di un pilastro del giornalismo sportivo, nel senso che io in questi anni faccio due parole sul collega Anselmo, perché sono dovute. Io penso che quello che ho imparato è che non possa esistere un grande avvocato che non sia anche un grande uomo. Per chi non lo sa, per quei pochi che non lo sanno, Fabio Anselmo è anche l'avvocato della famiglia Cucchi. Quindi l'avvocato Anselmo, dopo il successo professionale della famiglia Cucchi, dopo il successo professionale nella vicenda Bergamini, esce dall'aula del tribunale di Castrovillari e come primo pensiero non ha quello di celebrare se stesso, pur potendolo legittimamente fare, ma il suo primo pensiero lo rivolge a Donata Bergamini, che quel giorno era assente perché non reggeva più fisicamente le vicende processore del fratello. Ecco, io penso che questo valga più di tante altre parole. Quanto al resto Bergamini deve la riapertura delle indagini certamente alla sua famiglia, certamente al suo avvocato, al PM Facciolla, al progresso della tecnoscienza, che nel 2017 ha consentito di effettuare indagini che obiettivamente nel 1989 era impossibile effettuare. E io penso, insisto, che il corpo di Denis, come hai detto tu, ha parlato. Ci sono delle evidenze scientifiche appunto appurate con gli strumenti del 2017 che sono tali per cui la prima ipotesi di suicidio è stata totalmente accantonata, ma anche la stessa difesa dell'Interno ha abbandonato l'ipotesi del suicidio perché non ha minimamente trovato riscontro sul corpo di Denis, che sostanzialmente si è visto che alcune fratture che normalmente riporta un corpo trascinato per 60 metri da un camion, non erano riportate minimamente sul corpo di Bergamini. Ecco, quindi ci sono voluti sì 30 anni, però alla fine il corpo, come hai detto tu, ha parlato. Sì, io ascolterei l'avvocato per ore perché mi piace il suo modo di affrontare i fatti e di esporli. Andando sempre al caso della morte di Denis, All'epoca dei fatti, 32 anni fa, andò a processo il camionista Raffaele Pisano, che poi comunque fu assolto dall'accusa di omicidio colposo, così anche come l'attuale marito di Isabella Internò, Luciano Conte, che fu indagato per favoreggiamento, ma anche per lui poi la posizione fu archiviata. Con questo nuovo processo, secondo te, ora pensi che possa tornare tutto in gioco? Allora, per quanto riguarda la posizione del Pisano, è stato assolto per omicidio colposo, cioè la prima ipotesi fu, lo ha preso sotto con il camion e di prassi, ora si parlerebbe di omicidio stradale, all'epoca si parlava di omicidio colposo. L'apretura lo assolse, massimo rispetto anche in questo caso per le decisioni della giustizia. Quanto invece alla figura dell'attuale marito della Internò, Luciano Conte, ci sono anche qua, sono state fatte diecimila teorie e penso che sia anche giusto per la sua specifica posizione che il tutto venga chiarito in un processo, rispettando quel sacrosanto principio della presunzione di innocenza e ribadendo, dobbiamo dirlo ad onor del vero, perché alla fine io sono anche un giurista, la sua posizione è stata archiviata, che possa ritornare in discussione la sua posizione all'interno del processo, questo obiettivamente non spetta a me dirlo, spetterà eventualmente alla magistratura, però ad oggi la sua posizione è stata, per l'ipotesi di reatto di favoreggiamento, è stata archiviata e siamo giustamente obbligati ad attenerci esclusivamente alle risultanze della magistratura. Avvocato, siamo in conclusione della nostra intervista, vuole aggiungere qualcosa che non è stato detto o un pensiero, non so? Guarda, io vorrei sinceramente aggiungere un pensiero aggiungere un pensiero e dedicarlo a Donata Bergamini, Donata Bergamini è la sorella di Dennis, io ho una sorella, io penso che di norma l'amore tra fratelli è quanto di più sacro possa esistere, no? Tutte le religioni parlano che siamo figli di un Dio, ma tra di noi siamo fratelli, proprio perché su questa terra nulla dovrebbe essere più grande dell'amore che un fratello possa volere a una sorella, una sorella, una sorella, un fratello, un fratello. E Donata Bergamini ha letteralmente violentato il suo corpo per far uscire la verità sul suo fratello. L'altra volta, lo dicevamo prima, non è riuscita nemmeno ad essere presente all'udienza di Dennis Bergamini perché non ce la fa più e infatti la sua lotta la stanno giustamente portando avanti i suoi figli, che sono prima suoi figli e poi nipoti di Dennis Bergamini. Io ricordo una coreografia, uno striscione che fece alla Tribuna B in occasione di Cosenza-Venezia del 2019, quella dove segnò Tutino su assist di Palmiero, sembra che fosse maggio 2019, dove c'era scritto Giustizia per Dennis, lo genizzo per Tito. Ecco, io penso che più che giustizia... Anche in tutti gli stadi, eh, c'è nel senso... In tutti gli stadi, però... Cosenza, ma l'ho visto in un sacco di stadi. Sì, ovviamente lo studio della SPAL, siamo idealmente uniti in questo gemellaggio con la SPAL per questa vicenda, però giustizia per Dennis, secondo me può essere parafrasato in questo momento come verità per Dennis. Prima raggiungiamo la verità e poi sarà fatta giustizia, perché solo quando giustizia e verità collimeranno, solo quando giustizia e verità saranno l'unica cosa, il corpo di Dennis Bergamini, grandissimo calciatore, tolto dalla vita poco prima del suo salto di livello, solo allora il suo corpo potrà finalmente riposare in pace. Sì, io in conclusione mi accodo alle bellissime parole dell'Avvocato Cassano e mi auguro che dopo 32 anni appunto la famiglia di Bergamini non solo riesca a trovare un po' di verità e di giustizia, ma soprattutto una pace interiore che è dovuta, cioè non si può passare una vita intera con un'angoscia così lunga. Quindi io ringrazio l'Avvocato Cassano per questa bella intervista che ci ha concesso e vi invito comunque a seguire sempre le nostre pagine del DOT perché continueremo a trattare del caso di Dennis Bergamini sia tramite i nostri articoli e sia con le trasmissioni di Pianetta Cosenza. Quindi ringrazio l'Avvocato e vi rimando a una delle prossime puntate. Grazie a te, un saluto a tutti. Alla prossima. Grazie a tutti.